Un altro puntello essenziale per la difesa. Cesare Bovo sposa i colori biancazzurri. Il matrimonio alla fine si è fatto e la pro in riva all'adriatico del difensore in uscita dal Torino ha avuto la stessa dinamica di quello di Stendardo. Anche Bovo era praticamente preso in estate, salvo un ripensamento in extremis del tecnico Oddo, quando il più era fatto. Con Bovo il Pescara si dota di un altro difensore d'esperienza, perfetto per sviluppare la difesa 3. Senza dimenticare che Bovo è anche uno specialista dei calci piazzati, fattore tutt'altro che secondario in una squadra che fatica a trovare elementi sotto questo profilo. Un anno e mezzo di contratto per superare la concorrenza del Palermo, che contava di rivederlo in rosa nero, ma alla favorita non ci sarà il Bovo Ter. Caldo l'asse con la Juventus, anche se sembra un momento arenata la trattativa con il senegalese Babatiam. Dal club bianconero è già arrivato Alberto Cerri, mentre è vicinissimo il ritorno di Rolando Mandragora, che la Juventus vuole rivedere in biancazzurro per trovare, minuti importanti dopo l'infortunio, subito lo scorso anno, sempre in maglia pescara nel finale di campionato, con Manai destinato a tornare all'Inter. E con Baebek, che potrebbe avere altre chance se supererà i tanti problemi muscolari. A proposito, da oggi il francese tornerà a disposizione di Oddo, dopo alcuni controlli fatti con lo staff medico del PSG. Resta da vedere lo sviluppo del mercato delle punte. Budimir sembra avere qualche dubbio e allora torna di prepotenza il nome di Alberto Gilardino, che prima però dovrà risolvere il contratto con l'Empoli, squadra nella quale ha trovato poco spazio. Molto più difficile è la pista Paloschi dell'Atalanta. Riflessioni in corso anche per il centrocampo. Prima di affondare per Christian Ledesma, l'entourage del Delfino vuole valutare le condizioni del centrocampista ex Lazio, in uscita dal Palatinaikos. Pescara che aspetta la finestra evoluzioni sulla posizione di Marcel Buchel, sempre dell'Empoli. In uscita va sfoltito il settore dei centrali di difesa. Con gli innesti di Bovo e Stendardo vanno in sovrannumero Coda e Zuparic, che il Delfino farebbe volentieri partire. Da monitorare i pezzi pregiati della rosa e bianca azzurra, verre sempre più vicino a mettere nero su bianco con la Sampdoria, che si era interessata anche al terzino Francesco Zampano, prima di scegliere il polacco Beresinski. Su Zampano altre squadre hanno messo gli occhi, tra esse proprio la Fiorentina, che domenica farà visita al Pescara per l'ultima giornata di andata.